Sarebbe andato a fuoco un autobus ad Anagnina, ci troviamo a Roma, precisamente in una periferia che molti conoscono. Ancora da cercare di capire le cause che purtroppo hanno portato alle fiamme, quindi al relativo rumo. L'incendio c'è stato ieri il 17 gennaio 2024, sarebbero state coinvolte anche due macchine che erano parcheggiate lì vicino, quindi in loco. Insomma, c'è stata molta paura ieri ad Anagnina, a fuoco, ripeto, anche due auto parcheggiate in loco, ma ancora non sono state stabilite le cause esatte che hanno portato purtroppo al divampare delle fiamme, quindi del loco. Conseguentemente parlando, la paura è stata piuttosto visibile, quindi pare se. Iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.